Questa prima settimana è la prima amichevole della Fidelisandria e allora ne parliamo con Aldo Losito, giornalista della Gazzetta nel Mergiogiorno. Buongiorno Aldo, ben ritrovato. Ciao Davide, ciao Mario. Ciao Aldo. E allora Mario facciamo un po' il punto innanzitutto su quella che è stata l'amichevole, gol, introduciamo e poi partiamo con Aldo. Sì, chiedo alla regia guidata da Elia Fucci di proporre gli A-Lights, Andrea che ha trovato subito il vantaggio con una rete bellissima, ma lui Alex Irri ha questi colpi geniali e poi il pareggio sul calcio di rigore del Montorio. È chiaro che era la prima uscita estiva, poi è difficile trarre già delle valutazioni. Aldo che sensazioni hai avuto tu dopo questo match? Sicuramente positive anche se devo dire è stato un test poco attendibile perché si vedeva il carico dei giorni precedenti che ha tenuto sicuramente bloccati i calciatori, non liberi di andare con le gambe proprio perché la fatica si faceva sentire. Però quello che più mi ha dato gioia nel vedere la squadra dal centrocampo in su erano tutti i giocatori che danno del tuo alla palla, che riescono a diventare sempre qualcosa e che assicurano sicuramente spettacolo da qui fino al prosieguo della stagione. Aldo, mancavano gli attaccanti alla Fidelisandria, poi ne sono arrivate addirittura tre nell'arco di pochi giorni, prima Marsico e poi Da Silva e Iallo. Ciro Danucci ha già inviato un messaggio importante nell'amichevole di ieri, cioè Da Silva e Iallo possono giocare insieme? Almeno questo ha dimostrato il primo test estivo. Assolutamente sì e come hanno giocato perché mi hanno impressionato, certo magari non hanno fatto già i carichi di lavoro dei compagni perché si sono aggregati in corso d'opera, però hanno dato dimostrazione già di avere una buona intesa, di essere messi in campo con criterio da parte di mister Danucci. Non dimentichiamoci che poi dopo nel secondo tempo è entrato Marsico che ha fatto vedere anche molto e tanto di buono l'argentino. Insomma il potenziale offensivo negli ultimi giorni della Fidelis è cresciuto a dismisura secondo quanto la stessa società aveva previsto. Volevano tre attaccanti, sono arrivati tre attaccanti di grandissima importanza con Da Silva, capocannoniere dello scorso anno, Iallo, che non siamo qui a descriverlo perché ha un curriculum pazzesco per giocare in Serie D, pazzesco. E Marsico che era un po' la curiosità di tutti e che sicuramente ha lasciato anche il segno nel match. Ecco perché dicevo dal centrocampo in su ne vedremo delle belle perché sono tutti calciatori che sanno dare del tuo pallone, si inventano, sanno inventarsi sempre qualcosa. Invece Aldo guardando dal centrocampo in giù e quindi reparto e pacchetto arretrato, facciamo un po' il punto sui portieri? Sì, l'arrivo di Pellegrini darà un'ulteriore garanzia, anche se Suma non mi è dispiaciuto ieri, però ripeto è stato sempre un test molto poco attendibile. C'è da lavorare sui terzini che erano gli altri due under schierati da Danucci e anche qui un messaggio è stato lanciato dal tecnico della Fidelis che immagino possa utilizzare proprio gli under tra porta e due terzini bassi. Quindi anche lì un'indicazione di massima e c'è da lavorare appunto sull'intesa tra giovani e senior perché lì con Alexirri, Ferrara, Bonin, De Rosa anche lì ci sarà da divertirsi. C'è da trovare forse maggiore intesa nel reparto difensivo ma c'è tanto tempo ancora per lavorarci su questo aspetto. Potrebbe essere una soluzione per giocare poi con i quattro davanti, c'è quello di impiegare i tre giovani, uno in porta e due sulle corsie basse. E' chiaro, ieri la Fidelis ha giocato senza 2004 perché aveva 2006-2005 il campo perché Babai aveva avuto un po' di problemi fisici. Però Babai è uno che in questa squadra può fare la differenza, avere un giocatore del genere come 2004, giocarsi allo slot da under è davvero tanta roba. Le prossime amichevoli, venerdì prossimo contro un'altra realtà del campionato di eccellenza abruzzese, vale a dire il Giulianova. Poi l'ultimo giorno dedicato al ritiro in Abruzzo ci sarà un test un po' più complicato perché il Teramo è pari categoria. Squadra che milita nel campionato di Serie D. Il Casarano è partito con i botti perché poi Saraniti, Ferrara, lo Iodice e soprattutto Malcore. Landria con questi supercolpi ha colmato il gap secondo te Aldo? Assolutamente sì. Era lì l'attenzione principale rivolta al centravanti e come del resto lo è sempre stata negli ultimi anni della Fidelis. Quest'anno la squadra parte già con una rosa ottimamente attrezzata perché avere tre attaccanti, lo ripeto, come Da Silva, Yellow e Marsico è assolutamente un reparto da categoria superiore. E' in grado di competere con quello allestito al Casarano che ritengo essere in assoluto le due squadre regine del mercato ma ciò non toglie che poi sarà il campo a dare ovviamente il giudizio definitivo a quanto successo in questi giorni d'estate. E non dimentichiamo una batteria di tre quartisti pazzesca con Fantaci, Liurni, Koken, lo stesso Babai, da non ci può divertirsi come vuole. E noi ci divertiremo anche tanto seguendo questa serie D assolutamente di alto livello pensando anche alle altre società come la Nocerina, Virtus Francavilla. Occhio all'ischia, eh? E occhio all'ischia. Aldo, a te, a te. Io aggiungo soltanto che abbiamo anche un signor centrocampo perché ieri non hanno giocato Gladestoni e la Monica, pensate un po'. Quindi abbiamo due giocatori che non abbiamo ancora visto all'Opera e che andranno a dare ulteriore qualità anche nella zona nevragica del campo. Ecco perché la rosa allestita fino a questo momento dalla Fidelis la ritengo assolutamente in grado di competere per la vittoria del campionato. Sì, parliamo della carta, però i nomi e l'affidabilità di questi calciatori fanno ben sperare anche per la stagione. Grazie Aldo Lossito, allora ci riaggiorneremo. Ciao Aldo. Grazie. A voi, buon lavoro. Anche a te Aldo, anche a te buon lavoro.